La famiglia veglia la salma di Shukri Belaid nella sua casa natale in un quartiere popolare di Tunisi. Centinaia le persone venute a rendere omaggio all'oppositore laico assassinato mercoledì. Un attentato non ancora rivendicato ma che per i familiari porta la firma del partito di governo. Il partito nega ogni implicazione e si rimette alla giustizia. E Narda non ha nessun interesse politico ad attaccare un avversario politico ma se la giustizia scopre le ragioni e dimostra che le accuse sono fondate allora la legge deve essere applicata. Freddato a colpi di pistola davanti alla sua abitazione Belaid sarà inumato nel cimitero dei martiri di Tunisi mentre l'opposizione chiama lo sciopero generale al lutto nazionale.